Non riesco a dormire perché i pensieri mi volano in testa come stormi. Allora provo a scrivergli e a dargli una forma. A volte emerge il desiderio, a volte emerge lo spavento. A volte diventano sogni, a volte diventano incubi. E quando diventano incubi, ho paura. Ho paura di respirare aria sempre più sporca ogni giorno. Ho paura del mostro sotto al letto e del mostro del frigorifero, quello che di notte gli fa fare rumori strani forse per cercare di aprirlo. Ho paura di perdere l'entusiasmo, di annoiarmi, diventare cinico, di essere punto da qualche insetto di cui non so di essere allergico. Ma dentro tutte queste paure ci sono anche i miei sogni. E allora sogno. Sogno di stare bene e che tutti quelli a cui voglio bene stiano bene, soprattutto quelli che a loro volta mi vogliono bene ed io a loro. Sogno di vincere un Oscar per la miglior colonna sonora. Sogno di non aver più mal di schiena. Così posso andare a raccogliere le olive con la mia famiglia e fare un bel picnic tutti insieme.